Il programma è offerto da 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 loro c'era qualcosa insomma niente alla fine per noi è andato bene così e da quarti siamo riusciti comunque a vincere il playoff da quarti classificati. Attilio tu ripresenta allora cosa è successo? È successo che l'Azer già dall'inizio l'aveva un po' con l'arbitro perché l'arbitro è quello che ha fatto ripetere la gara di Mondaino poi dopo quando sono venuti hanno dato i due gol che poi l'arbitro ha già fischiato però uno non si è capito il motivo non hanno dato spiegazione neanche all'arbitro alla fine e alla fine c'è stato tutto questo battibecco finale con il direttore di gara mischia addirittura c'è un filmato che il guardalini toglie i pantaloni al numero 17 perché erano tutti ammucchiati per difendersi però tutto sommato non è che si stessero scambiando i pantaloncini? No gliele tiravo via perché si difendeva però tutto sommato non è che abbia influito più di tanto adesso il gol nel secondo non c'è il VAR noi non possiamo giudicare se era gol se era stato il fallo se non c'era stato purtroppo nel calcio sono cose che succedono e dopo una partita importante un arbitro che aveva già avuto precedenti molto giovane anche qui io la federazione va bene che gli arbitri non ci sono devono fare carriere i giovani però già con un precedente a mandarlo in una partita importante potrebbero anche pensarsi. Forse più caldo perché c'era un precedente con l'ASA. Sì con l'ASA esatto per quello avevano avuto il precedente tra l'altro la partita l'avevano ripetuta che l'arbitro non lo voleva far ripetere nel suo referto invece è stata ripetuta però dopo erano arrabbiati più i tifosi di fuori anche con me di vedere in televisione perché non dite mai degli arbitri ho detto noi quando c'è da parlare parliamo anche dell'arbitro però tutto sommato siete voi che siete in campo che dovete tenere le cose noi siamo in tribuna non possiamo farci niente quindi facciamo il nostro lavoro lo diciamo loro hanno protestato per l'arbitro l'anno alla fine si sono aggrediti un po' dopo fortunatamente si sono calmati è entrato tutto liscio e per lo sport è meglio così sì e diciamo che i toni poi si sono si 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 sono calmati no non è successo più niente solo al fischio finale che sono tutti aggrediti l'espulsione finale perché è protestato per il gol dopo sai quando sei lì teso sono cose che nel calcio sono sempre successe e succedono quindi morale però che è finito tutto bene non c'è stato altro tutta la terra è andata via tranquilla non è successo niente bene così insomma alla fine allora facciamo anche anche a laser che ha fatto un bellissimo campionato ha fatto ieri ha portato allo stadio un pubblico enorme quasi come quello di nuova ferter quindi in seconda categoria la domenica la gente ancora voglia di calcio visto che ieri tutte le squadre tutti i giocatori tutti gli allenatori tifusoria enorme tra l'altro i complimenti che non hanno fatto pagare neanche il biglietto a laser quindi anche gli spettatori si sono divertiti purtroppo il risultato uno deve vincere però come ho sempre detto i play off è tutta un'altra cosa dicevo prima che col mister loro hanno vinto nei play off che erano arrivati dietro il Superga ha vinto nei play off il Cotignola ha fatto fatica che avremo ospite dopo ha fatto fatica col Pietracuta a vincere nei play off non è detto che la squadra tutti gli anni le squadre che arrivano dietro hanno più mordente hanno più voglia di vincere hanno solo un risultato da ottenere devono solo vincere lo sanno partono con quella grinta con quella voglia e succede che vincono quelle squadre lì tutti i play off vanno a finire così benissimo intanto stanno arrivando tanti messaggi all'inizio facciamo anche i play off che San Patrignano ha battuto il Borgomarina anche nel retour match perché ha già vinto 1-0 l'andata ha vinto 4-3 nel torno e si è salvato il Borgomarina purtroppo ha detto già si è in terza eh sì purtroppo insomma è chiaro una delle due una delle due categoria peccato insomma ci dispiace per il Borgomarina al quale facciamo in bocca al lupo pronto ritorno in seconda e dicevo stanno arrivando tanti messaggi e tra l'altro insomma adesso stanno scorrendo anche quelli di questa settimana perché prima c'era Tillo che mi ha messaggi di fumo perché erano partiti quella la settimana scorsa ma adesso eccoli qua però prima di andare a sentire i primi commenti da casa i primi spunti anche per i nostri ospiti insomma qui abbiamo un Triss della Vismisano che ha fatto una vera e propria impresa perché insomma non partivate con i favori del pronostico no contro la Visma Feltria avete giocato ci ha raccontato anche a Tillo che rappresenta un'ottima partita e in generale un ottimo eh play off ma devo dire che sì non partivamo da favoriti ai play off ma probabilmente neanche a inizio stagione e quando sono arrivato io a giugno quindi di giugno dello scorso anno non è stato facile perché abbiamo cambiato 13 giocatori sono andati via e abbiamo portato tre o quattro ragazzi nuovi e poi abbiamo completato la rosa con i ragazzi del settore giovanile il girone d'andata non è stato semplice anche se ritengo che sia stato fatto comunque un buon girone d'andata poi con l'inserimento di due o tre ragazzi nuovi e siamo arrivati a fare quello che abbiamo fatto e quindi sì diciamo che Nova Feltria è stata una partita secondo me da da tripla perché sono quelle partite dove tutti possono fare tutto e il pubblico sicuramente aiutava la squadra di casa un pubblico numeroso e caloroso noi abbiamo ragazzi in rosa molto giovani in quella partita abbiamo giocato con due 2000 e 297 credo che la vittoria di quest'anno sia più che altro quella di aver usato i ragazzi del nostro settore giovanile noi abbiamo fatto esordire 4 2000 due hanno fatto uno 25 partite l'altro 15 abbiamo usato tra tutti i giocatori del settore giovanile 15 ragazzi del nostro settore giovanile quindi credo che questa sia la vittoria più importante poi l'ultima partita come ho detto prima sono partite che può vincere chiunque sicuramente non ha aiutato il campo il nostro gioco perché per dimensioni per fondo sicuramente non era il campo che poteva interpretare al meglio il nostro gioco però è andata bene bene così festeggiamo da una settimana e andremo avanti così ecco ancora per molto ma sì sì da che ci siete ma mi sembra giusto Amsterdam penso che sia un messaggio di Simone Imola che non è andato Amsterdam l'ultima partita aveva già preso il biglietto e io gli ho detto che se Amsterdam ci andavamo insieme io e lui se vincevamo il playoff e quindi adesso vi tocca andare bene bene insomma allora Lorenzo raccontaci qualcosa di questa di questo epilogo di questa finale soprattutto perché giustamente il mister ha sottolineato quanto il campo non fosse proprio adeguato al vostro gioco siete una squadra che cerca sempre di giocare quindi in linea teorica questo avrebbe dovuto sfavorire ma ricordo le parole di Attilio della settimana scorsa invece siete stati bravi proprio anche nel cercare di costruire pur con il campo avverso sì no no ma primo tempo per chi ha visto la partita penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione siamo calati magari nel secondo tempo e magari l'uno a uno alla fine verso gli ultimi minuti ci poteva anche stare non abbiamo assolutamente rubato niente questo va detto quindi penso che i ragazzi prima di tutto abbiano interpretato bene la partita che era l'importanza che aveva la partita in sé e dopo è arrivato il fischio finale io purtroppo per una regola non posso andare in panchina come secondo ero in tribuna è stata una gioia bellissima anche perché lì per lì non ce ne eravamo risa non avevamo capito che avesse fischiato tre volte e dopo abbiamo visto i ragazzi festeggiare e allora abbiamo abbiamo festeggiato anche noi però volevo prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi perché prima di tutto vanno in campo loro i complimenti vanno a loro sono stati formidabili dal primo giorno dell'allenamento soprattutto la nostra fortuna penso che abbiamo un bel zoccolo duro di ragazzi che sono insieme o quantomeno che giocano insieme da tanto tanto tempo e quella è stata veramente la la forza nostra come squadra per poter vincere credo meritatamente i playoff a Nova Feltri Marco qual è stato il segreto di questa Vis Misano nella costruzione della squadra? Il segreto principale è stato il mister abbiamo trovato un mister che è veramente di un'altra categoria un mister che ha dato subito delle direttive chiare su quali tutti abbiamo lavorato abbiamo creduto ciecamente nel suo operato abbiamo cercato di accontentarlo in tutto abbiamo avuto dei problemi all'inizio li abbiamo risolti poi abbiamo avuto degli infortuni gravi a dicembre abbiamo risolto anche quei problemi lì e alla fine abbiamo raccolto i frutti di un lavoro importante fatto dal magazziniere al bomber Urbinati che ci ha fatto 15 gol tutti hanno contribuito tutti hanno remato nel verso giusto non c'è mai stata una lamentela non c'è mai stato un ragazzo che abbia detto qualcosa di traverso tutti testa bassa tutti a lavorare intensamente come il mister voleva e ha preteso dal primo giorno e nessuno ha deluso e sono stato molto contento tutti sono stati molto contento dei ragazzi perché è un ottimo gruppo un gruppo che con dei valori dei valori soprattutto morali e anche i ragazzi che abbiamo integrato durante l'anno abbiamo avuto fortuna di trovare dei ragazzi che moralmente hanno dei valori rari per dei ragazzi di qualità e sicuramente questo ci ha aiutato tanto mister insomma sei stato il primo ad essere citato sei contento no no io ringrazio la società e confermo mi hanno fatto lavorare come meglio credevo insieme al mio staff insieme a Lorenzo a Giuseppe che oggi non c'è a Cristian ci hanno dato modo di lavorare anche quando forse i risultati non erano quelli aspettati hanno tenuto duro e credo che questo abbia pagato è già arrivata la conferma per il mister? ci stiamo lavorando altre altre richieste oppure c'è lui che sta prezioso? ci sono ci sono oppure? beh un mister che ha disputato un campionato come quello di quest'anno indubbiamente l'hanno visto in parecchie società e quindi anche società importanti lo stanno corteggiando è un mister che vale e quindi un mister che giustamente deve fare una carriera importante noi cercheremo di fare di tutto per tenerlo a Misano e poi ci incontreremo nei prossimi giorni cerchiamo di poterlo trattenere se poi non ci riusciamo perché ha delle offerte migliori delle nostre ma saranno delle offerte sicuramente per una carriera importante noi saremo comunque felici per lui perché è comunque un amico e un mister che merita mister non ti chiedo ovviamente insomma cosa stai pensando in questi giorni perché chiaramente insomma il mercato si muove si muove? si muove il mercato a tiro? ci sono parecchie notizie sul mister non le sveliamo stasera non le sveliamo? non mi dici un paio di squadre interessate al mister? ci sono anche di categoria superiore non me li vuoi fare? uno si sa lo sanno mai tutti la fioriccione punta molto sul mister Bucci quindi lo possiamo fare il nome di quella ma ci sono anche altre società e la fioriccione potrebbe sciparola perché c'è questo collegamento tra le società quello dopo dipende dal mister e cosa intenzione a fare? quindi dici la FIA diciamo in pole position se non dovesse ovviamente rimanere se ne parla da parecchio non solo da oggi ne hanno parlato anche l'altra sera alla cena io so tutto su questo non avevamo dubbi nessuno dei nostri ospiti vorrei sapere chi ha la talpa sarei curioso le talpe io le ho le talpe oggi parlavo con il direttore sportivo dell'Alfonsini che mi ha chiamato ha preso un giocatore che adesso lo dirò nel calciomercato però dice ha firmato ieri sera già te oggi mi chiami che abbiamo preso questo giocatore che ancora non lo sa nessuno mi hanno informato le informazioni sono queste e beh fa parte del nostro lavoro come dicevamo prima il cattolico non ha confermato Giorgi però io so già chi ha l'anatone nuovo il direttore sportivo quindi le cose bisogna saperle prima se no che giornalista sono che non mi informo il mondo del calcio romagnolo non si muove non si muove foglia senza che Attilio sappia sappiate il telefono che suona fisso ormai bene bene allora andiamo a sentire un po' cosa dicono gli amici da casa perché ce ne sono tanti eh un saluto da Attilio da parte del suo collega Filippo speriamo di lavorare ancora insieme la prossima stagione un saluto anche a Roberto e Federica e anche alla Valentina che purtroppo latita spesso da Filippo grazie Filippo ci sarà questa sera quindi la saluteremo insieme ciao a tutti stasera è l'ultima puntata di quest'anno ieri Attilio a Riccione altra clamorosa sorpresa in campo peccato per il finale poco elegante per niente educativo ciao a tutti in studio eh sì anche se poi ci sta ci sta la partita è tirata c'è l'impaglio una promozione ci può stare non dovrebbe però insomma siamo non è successo niente se non è successo niente va bene insomma complimenti a Lazar per la promozione in prima categoria Lazar questo credo sia ironico perché secondo me non può essere che ironico ho una questione di mala informazione allora andiamo con questo per Mr. Bucci Mr. Bucci quando andiamo ad Amsterdam? eh mi cummola eh Santia Santia Simone Simone vedremo metà giugno metà giugno va bene ci faccia sapere se va bene metà giugno andiamo sì sì ma è vero che se Bucci non sarà più l'allenatore del Misano ma io ho l'impol position per ricoprire l'incarico direttore interessato forse è direttore interessato il direttore sportivo il direttore sportivo ancora deve sapere la risposta del Misano non credo non credo non credo il patentino ce l'hai io certo no no io il patentino ce l'ho tra l'altro alla mia destra e alla mia sinistra siamo tre corsisti del 2015 tutti insieme qui a Rimini abbiamo fatto il corso quindi no 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 allenare possiamo allenare è bello che vi siete ritrovati da vincitore dei campionati no? bello ci sentiamo spesso siete sempre in contatto chiaramente beh il resto insomma Rimini è piccolo il mondo del pallone è ancora tutto sommato ancora più piccolo bene andiamo avanti vai mister Barton inizia con gli ok ah questo sì questo è il nostro attaccante fratesi che siccome quando parlo ho un rapporto particolare con i ragazzi io no? quasi come un fratello maggiore più che un mister quando si parla quando si cerca di far capire un concetto siccome soprattutto frantesi tanto bravo quanto testone no? bisogna intercavargli tanti ok per vedere se ha capito il concetto ok? quindi ok allora ok hai capito? ok hai capito? quindi allora mi prende in giro un po' su questo andiamo? gigante numero uno troppo forte un altro su gigante? gigante ti ricordi l'anno miracoloso 2013-2014 a San Lorenzo in cui il tuo arrivo a dicembre è quello di Argilli hanno portato la squadra da 8 punti a 41 vai Frignas altri tempi è Fregnani, allenatore del Pietracuta adesso ah ok non penso sia lui l'autore del messaggio penso sia ne preso in giro di qualche mio compagno di quella stagione lì ah ok va bene comunque allenatore era Fregnani era lui quindi dici che la firma è tarota andiamo con questo forse secco però mister Guerra e Giovagnoli rimanete con noi dai e penna saluta aspetta facciamoli rispondere siete lui prima ha detto si chiudono 5 anni così no 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 la società rimane aperta e gli obiettivi sono quelli di fare il meglio anche st'altranno rimanete lì abbiamo finito ieri l'altro ancora non è che neanche ci abbiamo pensato però la volontà spero sia quella di rimanere adesso ah ok va bene anche perché poi non dipende da noi cioè nel senso a Giorgi l'ha mandato via che ha vinto il campionato magari a me per un playoff a Gigi ci manda via perché ci hanno qualcun altro di meglio insomma non ce lo so dire va bene comunque l'intenzione sarebbe di restare sì anche tu per il sesto anno vedremo 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 rimane però c'è qualche voce hanno offerte Attilio che offerte ha voglio sapere non lo so io adesso non ho ancora parlato con lui però se dice così vuol dire che c'è qualche società c'è qualche società bene adesso scopriamo anche a calcio d'estate a proposito società di terza categoria chi ancora non l'ha fatto inviateci la scheda che la prossima settimana martedì 5 si parte al fronte mare con la prima serata che poi sarà trasmessa su Icaro TV mercoledì 6 però vi aspetto tutti per appunto premiare e portate soprattutto anche i giocatori che vengono premiati anche della vostra squadra perché insomma ogni società deve premiare e deve votare sarebbe bello che venissero le squadre con la divisa della società sarebbe bello che venissero le squadre al completo se proprio non dovessero riuscire sarebbe bello almeno avere i premiati quindi miglior portiere difensore centrocampista e il bomber che almeno possono venire a ritirare il premio questo lo dico per la terza lo dico per la seconda lo dico anche per la prima perché è bello che venga a ritirare il giocatore che poi col premio se l'è conquistato sul campo insomma io lo dico poi fate come volete però non dite che non mi avevo avvertito andiamo avanti con con questo qua che ci fa molto piacere saluto a tutti voi buona estate a settembre grazie grazie andiamo ancora con gigante gigante dovrebbe essere illegale in seconda categoria è troppo forte aspetta tanta roba ancora qua giampaolo gigante top player ok lo special one della valmarecchia grande mister dennis guerra forza penna andiamo andiamo avanti mister guerra dove è prevista la festa la festa di promozione del pennabilli non lo so ancora mi do riprende da sabato sera ancora dovete decidere ancora dovete decidere però insomma la società sta organizzando poi dopo ce lo farà sapere quindi ve lo comunicheremo anche noi ma poi anche la società sicuramente andiamo avanti complimenti a mister Bartolini per il traguardo per il traguardo raggiunto te lo meriti tutto ciao da Giussi grazie ancora sul mister Bartolini bravissimo mister ma soprattutto bellissima persona è speciale prestazione maestosa se costerà la moglie purtroppo questi messaggi solitamente le moglie non le manano non le manano solitamente quindi andiamo ecco tanto ne stanno arrivando altri allora finiamo la tornata con questi ultimi due allora prestazione maestosa di Balducci il gol è solo la ciliegina ancora complimenti e forza superga ok grande mister guerra dopo la vittoria come sono andati i festeggiamenti forza penna un saluto lascio i festeggiamenti diciamo quelli proprio nell'immediato nell'immediato perché vestiti come siamo andati abbiamo fatto un giro panoramico di tutta la Val Marecchia volevamo arrivare in riviera ci siamo fermati a Pietracuta figurati siete andati lontano un girone avete fatto il Marecchia ci ha fermato siete partiti troppo forte dopo i bar ci hanno offerto un po' quello che gli capitale e dopo è stato meglio fermarsi a pochi chilometri da casa meglio così bene allora Attilo qua sui nostri ospiti mi hai detto qualche indiscrezione solo sul mister gli altri gli altri hanno finito ieri sono molte notizie del mercato per tutti stanno arrivando a Valanga ho visto anche un messaggio adesso che parlava del mister Ligueri che faceva il secondo a Montalti a Ronco ma il mister Ligueri non va a Gatteo perché Gatteo ha già scegliato un altro allenatore ha già scegliato un altro allenatore un ritorno hanno preso l'allenatore della promozione e quindi per cercare la risalita per cercare la risalita bene si continuano ad arrivare tanti insomma di messaggi e allora Pennabili ancora sta decidendo come festeggiare il Superga noi siamo ancora un po' scossi perché questa notte scorsa è stata lunga che giro avete fatto a me è sembrato un po' di tornare bambino perché hanno invaso dopo a me mi hanno coinvolto hanno invaso il centro di cattolica con bandiere maglie fumogeni capirai il centro di cattolica già vivo un po' di turisti quindi ci sono state queste persone un po' scosse noi continueremo continueremo perché è stata una cosa inaspettata continueranno loro perché io come mister Bucci abbiamo certa età è meglio che ci fermiamo prima i festeggiamenti che li facciamo godere a loro se lo meritano tutto però da fratello maggiore mister ti tocca anche te insomma partecipare mi coinvolgono mi coinvolgono purtroppo è stato io sono uno molto io intanto la doccia l'ho fatta quello è il minimo che possa fare un mister con le mani bagnate c'è un mister che non abbia fatto la doccia mai dopo voleva scappare via ma l'hanno preso a me la doccia non è tanto il problema il problema è che io sono uno che guarda molto le cabare le scaramanzie allora da quando abbiamo iniziato nell'ultimo mese a fare un filotto di risultati tutto è nato bevendo un gin tonic il venerdì sera in un locale di un nostro giocatore e quindi ho dovuto per tutti venerdì sera bere questi gin tonic e finalmente adesso potrò rifare un venerdì sera tranquillo senza pensare alla scaramanzia beh ci avrei potuto andare peggio però che è un gin tonic no? di cubine non erano uno è stata una bella cabala sì però non è stato proprio un sacrificio proprio il sacrificio più che altro si sentiva la mattina ma era un gin tonic robusto però diciamo di sì o non tieni l'alcol mister oppure non era uno forse non era uno quanti erano i gin tonic? beh dai non si può dire sono a casa figli va bene uno diciamo uno era uno grosso così uno alla volta uno alla volta sì allora c'è intanto qualche altro messaggio perché voglio dare spazio ai nostri amici da casa allora vediamo un po' sì leggiamo questi questi quattro qua Gianpaolo dopo aver giocato con Montanari Nicola e Glorioso pensi di averle viste tutte? come pensi che siano tali come allenatore? ciao da Felice un'altra firma tarocca sicuramente Felice Angeli quindi sì Felice è Angeli se si firma un altro tarocco è riferito sempre a quella stagione sempre? c'è il tarlo per questa stagione sì perché ci siamo divertiti molto sono arrivato a dicembre io mi ha cercato il mister Fregnani che mi aveva avuto a Montescudo erano messi un po' male avevano 8 punti a fine giro d'andata e dopo ci siamo abbiamo preso un bel ritmo e nel giro di ritorno come c'era scritto nel messaggio di prima abbiamo fatto 33 punti mi sembra in 16 partite e ci siamo salvati tranquillamente e in quell'anno c'era Nicola Montanari Simone Glorioso Argilli che penso sia la regia di tutti questi messaggi addirittura penso che c'è un disegno cospiratorio dietro questi messaggi qualcosa mi porta a pensare sì andiamo a queste qua fonti certe danno Siliquini e Imola a Rimini potete confermare? smentisco categoricamente Imola fra l'altro è un falso 3 io quest'anno ho giocato col falso 3 non ho mai giocato col falso 9 ma ho giocato col falso 3 è un trequartista nato e ha giocato da terzino andiamo con questo mister Bartolini uno di noi grazie ma Lorenzo non è dei è quindi sul mercato estivo per quest'estate oppure è blindato dal penna billi calcio? vedremo quest'estate blindato ha detto che è andato in scadenza dopo un quinquennale è andato in scadenza il salto potrebbe essere un incentivo ma potrebbe vediamo un po' quest'estate quando sarà ora di pianificare un po' la prossima stagione appena è deciso ma lo farai sapere per il calcio il mercato anzi prima di decidere per favore faglielo sapere perché è così dopo bisogna vedere il problema diciamolo è il mister tanto ci lo confilavi prima cioè se rimane il mister se rimane il mister mi tocca andare via ti tocca andare via mi sembra di aver capito che ci fosse sono in macchina con lui sono in macchina con lui la prima scarpata un po' questo problema un po' questo problema bene noi siamo in diritto in arrivo perché tanto avete finito le stagioni adesso tanto diciamo è chiuso e vi smisano festeggiamenti ancora avete qualcosa ancora in calendario giovedì saremo ospiti del consiglio comunale del comune di Misano dove il sindaco ci omaggerà di una targa ricordo e poi abbiamo ancora qualche cena del mister abbiamo ancora qualche cena due serate sicure due serate sicure quindi insomma si continua a festeggiare anche se è passata già più di una settimana si continua aveva ragione mister Bartolini i ragazzi è giusto che festeggino è stato un anno lungo e quindi è giusto che festeggino insomma molto bene quest'anno è stato l'anno della provincia di Sud perché Misano Cattolica Superga Cattolica San Bartolo tutte promosse Morciano Morciano esatto tutta la parte di là Mondaino quindi è stata un'annata buona diciamo che la zona a virgolette Sud della provincia più che positiva più vincente benissimo allora vi faccio ancora i complimenti alle nostre squadre ospiti direi che abbiamo chiuso Attilio grazie a te al tuo lavoro al tuo impegno alla grande con questa prima parte fare il mio meglio portare tutto giustamente le squadre che hanno vinto che meritano e giustamente avere le ospite visto che le abbiamo avuto tutto quest'inverno colgo l'occasione di ringraziare tutti i presidenti tutte le società per il contributo che ha mandato tutto quest'inverno i dirigenti gli allenatori mandare i giocatori mandare gli ospiti perché non è facile perché gli impegni ci sono è lunedì è l'unico giorno che hanno libero i ragazzi le famiglie però Attilio ci auguriamo che sia un piacere venire qua una chiacchierata sempre tra amici non abbiamo avuto problemi di ospiti quindi grazie a tutti grazie a tutti io aspetto ricordo seconda categoria terza categoria partiremo con la terza tra l'altro poi anche la prima quando ci sarà la serata conclusiva di calcio d'estate di questa stagione vi aspetto mi raccomando al fronte mare quindi non mancate grazie ancora complimenti a tutti i nostri ospiti tra poco la seconda parte chiudiamo con isolcasa poi pubblicità e poi torneremo con tanti ospiti interessanti anche nella seconda parte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti